Buongiorno e bentornati per una nuova lezione di italiano. In questa lezione vedremo i pronomi indiretti. Se ti sei perso quella sui pronomi diretti, ti invito a guardarla. Anche in questo video troverai tanti schemi, tanti esempi a cui puoi fare delle foto per avere gli appunti sempre a portata di mano. Non perderti l'esercizio alla fine del video per metterti subito alla prova. Dunque, visto che è un video seguito del video precedente, andiamo subito al sodo. Si parla di pronome indiretto perché sostituisce un nome, una persona o oggetto e risponde alla domanda a chi, a cosa. Contrariamente a quelli diretti che rispondono alla domanda chi, cosa. Ho visto Carlo e gli ho dato il regalo. A chi ho dato il regalo? A Carlo. Mentre il pronome diretto risponde alla domanda chi, cosa. Posso prendere la tua penna? Sì, la puoi prendere. Cosa, in questo caso, la penna. Vediamo allora quali sono questi pronomi indiretti. Per la prima persona, mi. La seconda persona, ti. La terza persona, maschile, singolare, gli. La terza persona, la terza persona, singolare, le. Mentre per il plurale abbiamo la prima persona, plurale, ci. La seconda persona, plurale, di. La terza persona, maschile, plurale, gli. E la terza persona, femminile, plurale, gli. Vediamo degli esempi. Non mi piace il salmone. A chi non piace il salmone? A me. Il pronome indiretto, in questo caso, è mi. Ti va di fare un giro? A chi? A te. A te va di fare un giro? Il pronome indiretto, in questo caso, è ti. Ti ha chiamato Paolo? Gli devi ritelefonare. A lui devi ritelefonare. Marta non viene all'opera, non le interessa. A lei non interessa l'opera. Per il plurale, invece. Ci piace il mare? A chi? A noi piace il mare. Vi farò sapere presto. A chi farò sapere presto? A voi. Come vedete, pronomi indiretti, così come quelli diretti, si usano sempre prima del verbo. Adesso vediamo più nello specifico la terza persona maschile e femminile del plurale. Il pronome indiretto di terza persona plurale ha due forme, gli e loro. Il pronome loro è meno utilizzato e si usa dopo il verbo. I miei nonni festeggiano i 50 anni di matrimonio. Io gli ho regalato un viaggio. Oppure, io ho regalato loro un viaggio. Quando utilizziamo loro, vedete che lo mettiamo dopo il verbo. Le mie amiche si sono laureate. Io gli ho mandato i miei auguri per messaggio. Oppure, io ho mandato loro i miei auguri per messaggio. Quindi, ribadisco il fatto che quando utilizziamo loro, lo mettiamo dopo il verbo. E che loro, rispetto a gli, è meno utilizzato, soprattutto all'orale. Adesso vediamo i pronomi indiretti con la forma di cortesia, con i verbi modali e frasiologici. Con la forma di cortesia utilizziamo il pronome indiretto della terza persona femminile, le. Signora, le dispiace se apro la finestra? Signore, le porto un caffè? Quindi ricordiamoci che quando utilizziamo la forma di cortesia, il pronome è sempre quello femminile, le. Sia che parlo con una donna, sia che parlo con un uomo. I pronomi indiretti con i verbi modali e frasiologici. I verbi modali potere, volere, dovere e sapere, che sono sempre seguiti dall'infinito. Quelli frasiologici cominciare a stare per, stare più gerundio, finire di, anch'essi seguiti dall'infinito. Quindi, quando c'è un verbo modale o frasiologico seguito dall'infinito, il pronome indiretto può andare prima del verbo o dopo l'infinito. Ti ha chiamato Patrizia? Le devi ritelefonare. O devi ritelefonarle. Ho parlato con mia madre. Le ho finito di raccontare il mio viaggio. O ho parlato con mia madre. Ho finito di raccontarle il mio viaggio. Così come accade con il pronome riflessivo, in presenza di un verbo modale o frasiologico, possiamo scegliere se mettere il pronome prima del verbo modale o attaccato all'infinito che segue il modale o il verbo frasiologico. Questo è tutto per ciò che riguarda i pronomi indiretti. Ci resta da vedere i pronomi combinati, ovvero come utilizziamo pronomi diretti e indiretti insieme. Il video sui pronomi combinati sarà disponibile sul canale dalla prossima settimana, quindi da domenica troverete qui una scheda cliccabile per poter vedere anche i pronomi combinati. Adesso facciamoci un esercizio. Devi completare il testo con i pronomi diretti o indiretti. L'esercizio l'ho preso dal libro La nuova grammatica pratica della lingua italiana, trovi il link in descrizione. Il caffè di Piero. Che bellezza! Il primo caffè della giornata. Ho preso la moca, ho riempì di acqua, ho messo il filtro e poi ho aggiunto il mio caffè preferito, arabica. L'ho riempita di acqua. Mettiamo il pronome diretto femminile singolare e possiamo mettere l'apostrofo, contrariamente a quelli plurali. Mi piace questa miscela, la bevo ogni giorno, piace a me, bevo ogni giorno la miscela, quindi femminile singolare. È l'unica che tiene sveglio e fa affrontare bene la giornata. È l'unica che mi tiene sveglio, tiene sveglio a me e mi fa affrontare bene la giornata. La mia ragazza invece è una salutista. Dice che il caffè non fa bene, che rende nervosa e beve solo tè detenato. Dice che il caffè non le fa bene, è un pronome indiretto perché risponde alla domanda a chi a lei non fa bene, che la rende nervosa. A lei rende nervosa. Sì, avete capito bene, tè detenato, un'offesa all'italianità. Volete mettere con il piacere di preparare la moca? Sentir mentre fa il caffè e sentire il profumo del caffè che riempie la stanza? Puoi versare nella tazzina senza zucchero naturalmente. Volete mettere con il piacere di preparare la moca? Sentirla, la moca, mentre fa il caffè. Puoi versarlo, il caffè, nella tazzina. E finalmente ber mentre ti svegli lentamente. Questo sì che è un piacere della vita. E finalmente berlo, il caffè. Chi di voi si sta chiedendo perché in questi casi abbiamo il pronome attaccato al verbo? Perché sono dei verbi all'infinito. Quindi in presenza dei verbi all'infinito il pronome diretto o indiretto che sia va attaccato alla fine del verbo. Questa lezione è finita? Sai tutto quello che c'è da sapere sui pronomi indiretti? Io ti aspetto la prossima settimana per la lezione sui pronomi combinati. Fatemi sapere nei commenti come sta andando fin qui. Alla prossima!